Gli agenti della polizia locale di Monza sono tornati questa mattina sul luogo della tragedia per raccogliere nuovi elementi utili. Un bambino di 11 anni è morto giovedì pomeriggio dopo essere stato investito da un'automobile. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 in via Buonarroti all'altezza del civico 189, zona di Capannoni a sud-est della città. Il piccolo di origine cinese è stato travolto da una mini countryman condotta da una cinquantenne residente a Brugherio. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il bimbo al San Gerardo. Troppo gravi però le ferite riportate, l'undicenne è deceduto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe stato investito mentre attraversava la strada dopo aver oltrepassato una colonna di auto. In corso le indagini per far piena luce su quanto avvenuto e individuare eventuali responsabilità. Cordoglio dell'amministrazione monzese. Un fatto doloroso che ci impegnerà a verificare se possiamo migliorare la situazione di quella via, spiega il sindaco pilotto. È accaduto nella parte di via Buonarroti che sta al di là di viale delle industrie verso il confine con Brugherio, una zona industriale con notevoli complessi che gestiscono anche il commercio all'ingrosso e quindi frequentata non solo dalle automobili ma anche da mezzi. Pare che il bambino abbia attraversato una colonna, abbia tagliato una colonna di automobili in coda e si sia trovato a impegnare la corsia opposta mentre arrivava un'automobile. Ma avremo notizie ancora più precise da parte della nostra polizia locale. È un fatto che ci colpisce profondamente. Noi sappiamo benissimo che la città con i suoi 240 km di strada ha bisogno di tanti interventi, compreso il fatto che arriveremo anche con zone 30. Stiamo studiandola per un intero quartiere, per alcune vie, ma noi sappiamo anche che ci sono delle zone dove i 50 sono la media. Quindi non sappiamo se si tratti di velocità o se si tratti di situazione legata anche magari all'inesperienza con cui un bambino di 10 anni si muove all'interno della strada. È un fatto molto doloroso che comunque ci impegnerà a andare a verificare la situazione di quella via, capire se possiamo fare dei miglioramenti perché appunto è il compito comunque dell'amministrazione quello di cercare di migliorare in continuazione. Rimane il fatto che sarebbe cinico non dire che il primo sentimento che abbiamo vissuto tutti è quello di cordoglio. Due tragici incidenti nel giro di poche ore. Due motociclisti brianzoli hanno perso la vita. È morto in ospedale Sandro Gerosa, 55 anni, di Besana Brianza. L'uomo viaggiava sulla statale 36 in direzione sud all'altezza dello svincolo di Capriano. Si è scontrato con un veicolo ed è stato poi travolto da un camion. Su posto è intervenuto all'elisoccorso che lo aveva portato alla Manzoni di Lecco, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Il Centauro è deceduto poche ore dopo il ricovero. La superstrada è rimasta a lungo paralizzata in entrambi i sensi di marcia a causa di un altro incidente avvenuto quasi in contemporanea. Viaggiava in sella alla sua moto anche Massimo Passoni, 52 anni, impenitore di Bernareggio. Stava percorrendo l'autostrada A4 quando tra l'uscita di Cormano e lo svincolo di Milano-Certosa per cause ancora da accertare. Ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto sull'asfalto. Tra i primi a soccorrerlo un medico che stava transitando nello stesso tratto. Un'ambulanza lo ha portato al Niguarda di Milano. Anche in questo caso però non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla polstrada. Non è escluso che il motociclista possa essere stato colto da un malore. Aveva trasformato la camera da letto in una serra per coltivare la droga, una tenda, sistema di ventilazione, illuminazione ed essiccazione, la temperatura regolata da un termostato, diverse piante di marijuana alte quasi un metro. I carabinieri della compagna di Monza hanno arrestato un 32enne incensurato per produzione e detenzione lecita di sostanze stupefacenti. I militari impegnati in un servizio di controllo hanno fermato l'auto su cui viaggiava il giovane a Biassono. Dopo aver notato l'andatura sospetta hanno intimato l'alta. All'interno del veicolo hanno trovato 4,5 grammi di hashish, un cutter per il taglio, denaro contante e un barattolo in plastica dove erano custoditi alcuni semi di canapa. Da qui la perquisizione nell'abitazione dell'uomo a Carnate e la scoperta della serra. Accanto al letto la tenda per la coltivazione indoor, il sistema di irrigazione e le piante di marijuana. I carabinieri hanno sequestrato anche 34 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, ed una cartuccia calibro 12 da caccia illecitamente retenuta. È scattato dunque l'arresto convalidato nel processo per direttissime in tribunale a Monza. Il giudice ha disposto per il 32enne la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Bilancio approvato, via libera e i dividendi. Si è riunita nella sede di Monza l'Assemblea di A5, società nata dall'aggregazione delle utilities di Lecco, Como, Monza, Varese e Sondrio. Via libera all'unanimità del bilancio consolidato 2022 che, nonostante il difficile contesto macroeconomico, vede un risultato netto del gruppo di 30,8 milioni di euro, sebbene in diminuzione all'anno precedente. A5 nel 2022 ha proseguito con il piano di investimenti fondato su sostenibilità, potenziamento, sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, oltre che sull'impulso digital in tutti i business presidiati. Gli investimenti 2022 ammontano 69,4 milioni di euro che garantiscono quindi valore e continuità nel lungo termine sui territori provinciali di riferimento. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto risulta pari a 241 milioni di euro in incremento a causa principalmente dell'andamento del capitale circolante netto che ha visto lo sviluppo di attività di efficientamento energetico come ecobonus e superbonus. L'Assemblea dei Socii ha poi approvato all'unanimità la proposta del Consiglio dell'amministrazione e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 0,085 euro per azione che verrà messo in pagamento il prossimo 21 giugno. Al socio di maggioranza a due andranno poco meno di 7 milioni di euro, Alario Retti Holding 4 milioni di euro. Il Comune di Monza otterrà una cedola da 1 milione e 700 mila euro e quello di sondola di 553 mila. L'Assemblea ha inoltre confermato all'unanimità la nomina del Consigliere Stefano Cettico, optato lo scorso 30 novembre, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Il trischiele celtico bianco su sfondo verde, simbolo dei fiumi che attraversano il territorio, e una goccia con i rami di querce e olivo a indicare l'unione e l'appartenenza alla Brianza. Sarà questo da ora l'emblema araldico della provincia di Monza e della Brianza, che sarà rappresentato su un apposito gonfalone, sulle bandiere e sulla fascia presidenziale. Una tappa storica nel percorso della provincia più giovane d'Italia, celebrato con solennità alla Villa Reale di Monza, alla presenza delle istituzioni civili e militari, delle realtà territoriali e dei 55 sindaci dei comuni Brianzoli, con quest'ultimi che hanno ricevuto, accompagnati dal gonfalone della propria città, la nuova bandiera della provincia. Si va a chiudere un cerchio, ma si va a chiudere in maniera positiva, quindi ponendo fine a quella che è l'istituzione della provincia, donando a lei un simbolo di riconoscimento, uno stemma, una bandiera. Adesso le sfide che si aprono sono molteplici, abbiamo una provincia nuova che sta venendo avanti dai banchi del Parlamento e noi siamo pronti a raccogliere questa sfida, siamo pronti a continuare a dare servizio ai comuni, che ormai è il settore in cui meglio ci siamo specializzati in questi anni. Una cerimonia che ha costituito l'occasione anche per ripercorrere i primi 14 anni di vita della provincia Brianzola, tra momenti di crescita ma anche difficoltà, con le parole dell'attuale presidente Luca Sant'Ambrogio e dei suoi predecessori Dario Allevi, Gigi Ponti e Roberto Invernizzi. Questa sorta di limbo nel quale vivono gli enti provinciali è un limbo che produce disagio ai cittadini. C'è bisogno di fare chiarezza, se ne sono accorti un po' tutte le forze politiche e io devo fare il plauso a questo nuovo Parlamento che si è insieggiato da poco ma che ha dato già dei segnali concreti rispetto a un riordino, una riforma delle province che ricordiamo sempre non passa esclusivamente per l'elezione diretta dei suoi rappresentanti ma deve essere necessariamente accompagnata contestualmente da risorse certe sia in termini finanziari che di personali e da competenze certe. È una provincia molto giovane che ha per così dire messo in coda la sua vita recente il simbolo e lo stemma fondamentale ma che ha fatto da prima grazie all'attività di tutti i dipendenti, funzionari e dirigenti un'azione che la porta a svolgere veramente quel ruolo di casa dei comuni la cui idea originaria è partita da qui e si è estesa in tutte le province d'Italia e probabilmente costituirà la base per lo sviluppo, il nuovo impulso per la riforma delle province che attendiamo un po' tutti veramente in maniera ansiosa. Avere un figlio è un problema per il 15% delle coppie italiane. L'ospedale di Karate, dove nel 2022 sono nati 1100 bambini, aiuta a quanti sono in difficoltà grazie al centro di procreazione medicalmente assistita, unico nel suo genere in tutta l'area dell'Abbrianza Nord. Ogni anno sono circa 250 le prime visite, un terzo delle coppie è di origine straniera, provengono per lo più dall'est Europa e soprattutto dai paesi arabi. A tutti è offerto un supporto di mediazione linguistica e culturale e un servizio di psicologia. La fascia d'età delle donne che si rivolge alla struttura è compresa fra i 30 e 45 anni. I numeri del 2022 sono rilevanti, 100 inseminazioni intrauterine con 15 gravidanze avvenute successivamente. L'attività dell'ambulatorio, spiega Sara Consolni, ginecologa responsabile del centro, prevede colloqui informativi sulle diverse opzioni di genitorialità, approfondimenti sulla salute della coppia, con proposta di interventi di prevenzione e indicazioni sull'importanza degli stili di vita e sulla nutrizione che possono avere un impatto sulla fertilità. L'equipe dell'ambulatorio segue il principio della gradualità del ricorso alle tecniche di procreazione assistita allo scopo di limitare l'invasività tecnica e psicologica degli interventi, tenendo conto dell'età dei pazienti, dei dati emersi dalla valutazione clinica, delle eventuali cause di infertilità, degli anni di ricerca della gravidanza e della volontà della coppia. La fase di inquadramento diagnostico, aggiunge Marco Manni, direttore facente funzione dell'ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Carate, prevede la collaborazione con altri ambulatori specialistici della struttura, come gli ambulatori di patologia benigna, isteroscopia e colposcopia, soprattutto se viene identificata una causa specifica di infertilità. Da ultimo è di fondamentale importanza la gestione degli aspetti emotivi che caratterizzano il percorso di procreazione assistita con un'offerta attiva e il costante supporto psicologico. Si prepara a partire una nuova stagione ricca di eventi e incontri per il Centro Culturale Europeo Palazzorese Borromeo in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e l'Università San Raffaele di Milano. Saranno cinque i corsi previsti dal programma tra maggio e novembre con relatori ed esperti di rilievo nazionale e internazionale che guideranno, grazie ai loro studi e alla grande esperienza nelle rispettive materie, gli incontri su diversi macrotemi, architettura, attualità, filosofia, storia, politica ed economia. La proposta è una proposta che spazia rispetto ad alcune tematiche che proprio qui in Brianza hanno un valore specifico e nel territorio lombardo naturalmente. Mi riferisco al tema del design, del quale partiremo con l'iniziativa di maggio per poi andare sui temi legati alla formazione e ai temi della politica. Si ragionerà sui temi di globalizzazione ed economia per poi svolgere un'iniziativa particolare dedicata agli amministratori locali. Assieme a ciò ci saranno le proposte dalle quali siamo sempre partiti che sono un po' l'orgoglio di questo territorio e di questa associazione culturale che si riferiscono ai temi della filosofia e a quelli della storia. Si inizia il 2023, ancora una volta, protagonista Cesano Maderno ma l'idea è sempre quella di allargare alla Brianza e alla Lombardia questo progetto. Sì e soprattutto di far diventare Palazzo Borromeo sede sempre più viva di eventi, di attività formative, sempre più aperte al pubblico e sempre più aperte a coloro che desidereranno cogliere le opportunità formative e divulgative che sono contenute all'interno di questo programma molto ambizioso non solo per Cesano ma per tutta la Brianza. Quest'anno abbiamo sdoppiato il corso di formazione politica accanto a quello propriamente di politica che ho coordinato con il dottor Arezu e Arezu è un grande esperto di questioni internazionali e soprattutto nei rapporti tra Stati Uniti e Cina che si svolgerà per tre appuntamenti aperti al pubblico vi sarà un corso proprio dedicato al lavoro amministrativo. Soprattutto l'amministratore se non è informato se non riesce ad elaborare, ad acquisire delle conoscenze molto determinate soprattutto in chiave giuridica corre rischi, corre rischi gravissimi e quindi dovrebbe essere interesse dell'amministratore di quello che si candida a fare il sindaco, a fare l'assessore frequentare un corso di questo genere. Grazie a tutti.